ciao sei su solo storie vere ti do il benvenuto sul mio canale in questo video vi voglio parlare di cosa nostra gela una delle cosche più sanguinarie e feroci della mafia siciliana prima di partire vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti gela 23 luglio del 1963 nasce daniele manuello nel 1993 all'età di 29 anni aveva deciso di darsi alla latitanza poco prima della cattura del suo capo il boss pidumadonia considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di cosa nostra soprannominato anche pidu chiacchiera a causa della sua loquacità figlio di francesco madonia ciccio legato a totoriina che venne ucciso lungo la strada provinciale falconare a riesi nel 78 su ordine di giuseppe di cristina e giuseppe calderone pidumadonia era latitante dal 1983 arrestato il 6 settembre del 92 all'ongare in provincia di vicenza si trattò del primo boss della cupola arrestato dopo le stragi di capaci e quella di via dameglio e da allora si trova detenuto a regime del 41 bis a gela la ferocia degli emmanuello e quella dei suoi uomini la violenza con cui controllavano un vasto territorio è stata paragonata a quella dei narcos messicani nel 1999 un mandato di cattura internazionale lo indicava come uno dei latitanti più pericolosi del mondo come abbiamo detto a gela la famiglia manuello rappresentava il boss pidumadonia la sfera dei lucrosi affari familiari erano il racket il traffico di droga le rapine gli omicidi su commissione e i subappalti daniele era uno dei mafiosi storici della città essendo il nipote prediletto di angelo emanuello detto formiculoni un nome che a gela si nominava solo sussurrandolo ma al contrario dei romanzi formiculoni era un personaggio reale e per niente immaginario anche formiculoni venne ucciso da un clan rivale della stitta durante la guerra di mafia degli anni 80 daniele con i suoi tre fratelli nunzio davide e alessandro venticarono a dovere l'uccisione dello zio angelo con una scia di sangue e una ferocia degna dei film gli emanuello non avevano mai accettato di specializzarsi in un solo settore optando per una strategia diversificata che li aveva portati ad occuparsi di tutti gli ambiti della filiera criminale rapine omicidi torture danneggiamenti estorsioni toto nero videopoker riciclaggio commerciale mercato dei subappalti eccetera la loro cosca nei decenni ha condizionato la vita di intere comunità e di svariati settori economici impegnando le forze dell'ordine e le procure di mezza europa da gel a mainz in germania passando da genoa firenze ordenoni parma reggio emilia e brescia il clan ampliava e spostava le proprie sedi operative sfruttando redi di prestanome e società incomodo la vita di daniele emanuello in qualche modo doveva per forza concludersi in modo drammatico qui la scena si ha svolta tra le nebbie della contrada giurfo a villa priolo una frazione di villa rosa vicino enna alle prime luci dell'alba di un lunedì di dicembre in un casolare circondato dalle forze dell'ordine durante l'opsia addirittura sono stati trovati nel suo stomaco dei pizzini avvolti nel celofan ingogliati prima di tentare la fuga ma di questo ne parliamo dopo per gestire i suoi fari illeciti aveva dovuto rendersi invisibile per circa 15 anni visse lontano dalla moglie e dai suoi quattro figli gli anni della latitanza furono quelli in cui rafforzò il suo potere di boss da cosa nostra fu ucciso in fuga durante un'operazione di polizia a villa priolo frazione rurale di villa rosa il boss di gela e manu daniele manuello ricercato dal 96 per associazione mafiosa traffico di droghe e omicidi è morto a causa di uno o forse due proiettili di pistola che lo hanno colpito alla nuca gli agenti avevano circondato la zona intimando di venire fuori e sparando alcuni colpi di pistola in aria emanuello è uscito da una finestra con ancora addosso il pigiama non si sa con precisione da quanto tempo in latitante utilizzasse quell'edificio nelle campagne di villa priolo ma certamente emanuello si trovava lì da una settimana nella camera da letto è stato rinvenuto un borsone con dentro i vestiti segno che il boss si spostava frequentemente e che comunque si preparava a lasciare il covo nell'edificio è stato trovato un fucile e numerosi farmaci e alcuni documenti era un killer e veloce in grado però di pensare alleanze strategie fedele alleato del boss di cattanissetta pidumatonia che di lui si fidava tanto addirittura da delegargli i rapini milionari lombardia e veneto dalla fine degli anni 80 era il gestore degli affari criminali a gela e nel comprensorio e utilizzava ragazzi anche minorenni primi affari importanti li fece proprio grazie a madonia negli anni 80 partecipando alla spartizione dell'alparto di oltre 300 miliardi per la ricostruzione della diga di sueri durante la guerra con la stida che culminò il 27 novembre del 90 quando in quattro agguati simultanei furono uccise otto persone e altre sette rimasero ferite gli emanuello decisero di lasciare la sicilia dividendosi tra liguria piemonte e germania nel 92 dopo 120 morti si sancì la tregua l'aditante dal 1996 continuò a controllare estorsione traffico di droga e riuscì a estendere le sue attività oltre la sicilia in friuli una cellula del clan gelese gestiva appalti per suo conto miracolosamente sfuggito a due attentati uno dei quali fallito perché la bomba utilizzata per l'acquato era rimasta inesplosa affiliato alla famiglia mafiosa gelese era considerato boss incontrastato ed esponente più importante di cosa inoltre di caltanissetta in collegamento con il clan mafiosi di genova e milano la corte d'assise di caltanissetta lo aveva condannato all'ergassolo per gli omicidi di maurizio murreale luogotenente di rinzivillo emanuele trubia detto la belva e salvatore sultano trucidati nel 99 in un da barba tutti e tre appartenenti al clan dei rinzivillo con il quale nella seconda metà degli anni 90 gli emanuello erano entrati in conflitto tra le imputazioni a carico di daniele emanuello ci fu anche quella di essere stato uno dei carcerieri del piccolo giuseppe di matteo il figlio dodicenne del pentito santino di matteo strangolato e poi gettato nell'acido su ordine di giovanni brusca muore il 3 dicembre del 2007 durante l'operazione di polizia a villa priolo in provincia di en grazie di avermi seguito fino a qui il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like e spero di rivederti presto nel mio canale grazie a tutti